Ciao a tutti ragazzi sono Luna B e questo è un video presentazione della cover che sto per trattare La canzone si chiama Pesca la tua carta Sakura e si tratta della sigla italiana cantata da Cristina D'Avena La base musicale è stata realizzata da Ita Ray News che sotto in descrizione vi lascia il link del suo canale dove tratta tantissime basi musicali Stavolta è diverso, ovvero la persona che mi ha mixato la canzone è una è stato Gem 235 che si occupa di remix di musica nel suo canale appunto sotto in descrizione vi lascio anche il suo canale ma a parte questo vi do una novità del canale scrivete sotto nei commenti chi vuole essere salutato nei prossimi video e a fine video di ogni canzone metterò appunto i saluti se nel caso il video vi piace iscrivete al canale se non l'avete fatto attivando la notizia lasciate un mi piace, condividete questo video con tutte le persone che conoscete fan di Cristina, qualunque persona beh, io credo di aver detto tutto, quindi buon ascolto, ciao! 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 Ciao!